L'ex tronista Angela Artosin di nuovo incinta Uomini e donne, l'ex tronista Angela Artosin di nuovo incinta Angela Artosin di Uomini e donne è incinta del secondo figlio Angela Artosin è stata una delle tronisti di Uomini e donne che abbiamo conosciuto ben dieci anni fa Accanto a lei Serena e Nardu con la quale hanno condiviso un corteggiatore, Giovanni Conversano L'ex tronista Sarda decise poi di abbandonare il programma senza scegliere nessuno Il percorso di Angela ebbe lo stesso finale, molti avevano capito che l'ex tronista non era interessata seriamente a nessuno e l'opinionista Gianni Spertile attribui una relazione fuori dal programma La bella bionda decise di uscire allo scoperto e confermare la relazione con un brasiliano Proprio fuori dallo studio del programma condotto da Maria De Filippi, l'Artosina ha poi trovato l'amore Si chiama Simone e i due sono sposati dal 2011 A consolidare il loro amore nel 2016 è arrivato il primo genito Ismi e l'anno che sta per arrivare porterà loro un secondo figlio L'annuncio è arrivato proprio su Instagram in prossimità del Natale Angela Artosina ha annunciato di essere in dolce attesa proprio sul social, attraverso una foto di famiglia Lei, il marito Simone e il piccolo Ismi vicino al grande albero addobbato e qualche parola per giustificare la mano posizionata sulla pancia E niente. Babbo Natale deve essere venuto a conoscenza che a me la sua festa non piace tanto, quindi ha deciso di mandarmi un pacchettino speciale per quest'anno per farmi cambiare idea, anzi mi ha fatto sapere che al posto suo manderà direttamente la cicogna a luglio, con queste parole Angela ha espresso la sua felicità P.S. Già ho gli ormoni a palla Per scrivere questo posto ho consumato un quintale di fazzoletti a forza di piangere. È proprio vero che il Natale quando arriva arriva A me ha dato una botta incredibile quest'anno. Conclude così l'Artosina, pronta ad accogliere il secondo figlio, dopo la nascita del primo maschietto Angela Artosina dopo Uomini e Donne Dopo aver tentato di trovare l'amore al programma pomeridiano di Canale 5, Angela Artosina si è sposata ed è diventata mamma Ha messo da parte l'astio con la rivale Serena e le due si sono rincontrate proprio lo scorso dicembre e hanno dato inizio ad una nuova amicizia Ciao